Anche a Catania gli immigrati scendono in piazza per chiedere più rispetto da parte delle istituzioni. Oggi pretendono dignità e diritti che finora sono loro stati negati in materia di tributi, permessi di soggiorno e ovviamente sul campo occupazionale. Nel pomeriggio di oggi prima un breve raduno alla CGL dove sono stati accolti anche dagli altri sindacati unitariamente per spostarsi successivamente in prefettura. Avete delle richieste ben precise da formulare al prefetto che tra l'altro state incontrando, cosa gli chiederete? Stiamo incontrando il prefetto di Catania come sta avvenendo in tutti i prefetti d'Italia per fare una richiesta unitaria fatta da CGL Cisle Will, unita alle esigenze delle comunità presenti. Chiediamo sostanzialmente uno la totale abrogazione di questa sovratassa unica messa sui permessi soggiorno perché non è comprensivo come si possa andare a pagare in una famiglia di quattro immigrati che già per essere regolari pagano le tasse, pagano i contributi, ulteriormente tassarli. Cioè fino a 200 euro è una cosa inaudita, forse inumana da un certo punto di vista. Noi ci stiamo attivando per chiedere questo innanzitutto e poi la riapertura del decreto flussi o cosiddetta sanatoria perché non ha senso tenere tanti irregolari sul territorio italiano o tenere fuori forza lavoro che in questo istante di crisi a noi serve perché paradossalmente l'immigrato deve essere a regola e perciò pagare le tasse per essere sul territorio nazionale. Di conseguenza lo Stato ne guadagnerebbe, ne guadagneremmo tutti con un'integrazione ancora maggiore perché poi su Catania le comunità sono molto presenti, attive, collaborano con noi della CGL e con l'ufficio abbiamo una relazione molto stretta con le comunità. Di conseguenza andiamo a seguire casi che realmente lo Stato italiano da un certo punto di vista si può definire razzista su questo piano. Infatti la CGL poi nello specifico insieme al Comitato dell'Italia sono anch'io sta portando avanti due proposte di legge che una innanzitutto punta a modificare lo Ius Solis cioè che chi nasce sul territorio nazionale sia cittadino italiano e andare a modificare alcuni punti della Bossi Fini che sono paletti troppo alti e la seconda invece è dare il diritto al voto per le amministrative locali.